L'Enel Basket Brindisi resta in Serie A. Questo il risultato maggiore raggiunto con la vittoria odierna. Un altro tassello che si va ad aggiungere alla storia del basket biancazzurro, considerando che tutte le volte che la squadra era riuscita a raggiungere la Serie A, era poi retrocessa nella Serie Inferiore. Di conseguenza il risultato resta comunque storico. Dopo sette sconfitte consecutive nel massimo campionato, la squadra Brindisina, in tredicesima posizione in classifica con 20 punti davanti a Bologna, Pesaro e il fanalino di Coda Biella, ospita al Palaventassuglia proprio i piemontesi dell'Angelico, allenati da coach cancellieri che tentano di bissare il successo di domenica scorsa, ma durato in casa contro il Cantù quinto in classifica. Tifosi, società e allenatore della New Basket si aspettano una dimostrazione da parte dei giocatori, soprattutto degli americani, al di là di paghe sospese realmente o meno o di minacce di scioglimento contrattuale a fine campionato. La larghissima vittoria di andata per 59-94 della squadra Biancazzura sarebbe potuta essere motivo di riscatto per gli avversari, che sono scesi comunque in riva all'Adriatico, decisi a conquistarsi due punti importantissimo per non essere matematicamente retrocessi. Tutti disponibili per coach Bucchi, tranne Vigiano ancora infortunato, Forment invece gioca con una fascia elastica che tenta di diminuire il fastidioso dolore al torcicollo. Dall'altra parte Ross era al completo, in campo i biancazzurri scendono con Reynolds, Simmons, Gibson, Doyle e Robinson, Biella risponde con Rocesti, Pinkney, Johnson, Jurak e Raspino. Primo quarto che sembra avviarsi bene per Brindisi, che apre con un 5-0 di Robinson ed una tripla di Gibson. Nei minuti successivi il gioco si equilibra a qualche errore dei padroni di casa, permette il recupero della parità sul 20-20, dopo i canestri di Rocesti, Pinkney, Jurak e Lagana per Biella e Simmons, Reynolds, Gibson e Robinson per Brindisi. Negli ultimi due minuti si gioca ancora punto a punto con Gibson e Simmons a segnare gli stessi punti di Lagana, Pinkney e Jurak. Sulla sirena una tripla di Gibson chiude il quarto, 29-26 per lei nel basket. Il secondo tempino inizia ancora nel segno biancazzurro, Brindisi a lunga più 6 con il solo Simmons, 32-26. L'illusione dura un solo canestro, poi Mavunga, Pinkney e Lagana in contropiede avvicinano il punteggio 35-31 dopo una tripla di Gibson e più avanti 38-35 dopo una bomba di formenti. Nella fase successiva i padroni di casa si concentrano e costruiscono una serie di azioni con canestre liberi aggiuntivi che incrimentano il vantaggio più 10-49-39, subito regolato da una tripla di Rocesti e i canestri di Johnson e Lagana intervallati dal canestro di Gibson con il punteggio che recita più 5 Brindisi, 51-46. Pochi secondi dopo la sirena di riposo lungo suona sul 54-48 dopo un libero di Grente, un canestro di Reynolds per i biancazzurri ed un centro di Lagana per gli ospiti. A rientro sul parquet la New Basket aggredisce letteralmente gli avversari e in tre minuti con Simmons, Robinson e Reynolds che subisce anche un fallo antisportivo di Johnson e avanti più 12-62-50. Trascorrono i minuti ma il divario resta nelle due cifre, il break infatti di 16-13 e il punteggio 78-63 che nel finale di quarto con due libri di Pinkney e un canestro di Rocesti diventa 78-67. L'ultimo quarto sembra per metà tempo dominio biancazzurro, un canestro di Grente, due triple di Formenti ed una di Fulz tengono dietro gli avversari meno 14-88-74. Tre minuti dopo un sussulto ospite con Lagana, canestro e tripla e la penetrazione di Johnson che dimezzano lo stesso vantaggio più 7-93-86. Biella ci prova fino all'ultimo e si porta sotto anche meno 5-97-92. Finisce comunque 101-94, Brindisi è matematicamente salva, obiettivo raggiunto con tre turni di anticipo e la squadra spoggia la maglia commemorativa con la scritta la prima volta non si scorda mai. Ormai formalità ma interessante la prossima prova in anticipo alle 12 di domenica prossima in trasferta contro la CEA Roma.